BIMBORAGNO! Ciao ragazzi. Posso tenere il costume? Certo, per me è piccolo. Solo non fare nulla che io farei. E non fare nulla che io non farei. C'è una piccola zona grigia nel mezzo, è lì che tu operi. Come va ragazzi? Un momento, voi non siete i veri Avengers. Ma non vuol dire che tu sia un Avenger, se lo stavi pensando. Oh, ok. Non è un abbraccio, sto aprendo lo sportello. Bene ragazzo, buona fortuna. Il mondo sta cambiando. Dobbiamo cambiare anche noi. Senti Peter, lascia perdere il mostro volante. C'è già chi si occupa di queste cose. Stark mi tratta come un ragazzino. Ma sei un ragazzino. Posso dimostrare quanto vago. Non ci provare. O ucciderò te. E tutti quelli che ami. C'è già chi si occupa di queste cose. Ci sono alcuni. Ci sono alcuni. Amore. Ci sono alcuni. Grazie a tutti.